ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in formato video dove io personalmente vi leggo i bocciardini in questa nuova serie di video tratterò l'argomento relativo alle malattie o patologie che purtroppo spesso affliggono molti di noi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano attivare la campanellina e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci principi attivi che assumi o malattie che stai combattendo in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute in questo video ti parlo della malattia o patologia rosacea o cooperose la rosacea o cooperose è una dermatite cronica benigna piuttosto comune che colpisce milioni di persone nel mondo soprattutto donne interessa soprattutto il volto in soggetti con carnagione chiara che cos'è la rosacea la rosacea si presenta come una rete di piccoli vasi sanguigni superficiali che nell'insieme dall'aspetto adote rosse le zone più interessate sono le guance il naso la fronte e a volte la zona dello sterno quali sono le cause della rosacea all'origine della rosacea c'è la predisposizione familiare a questo disturbo aggravano il problema l'esposizione eccessiva al sole lo stress i frequenti passaggi dal caldo al freddo e viceversa anche gli ormoni sembrano giocare un ruolo in questo disturbo che spesso risulta aggravato dall'assunzione di contraccettivi orali o dall'avvicinarsi del periodo che precede la menopausa l'assunzione o l'applicazione cronica di cortisone può causare o aggravare la rosacea quali sono i sintomi della rosacea la rosacea si presenta con rossore evidenza di piccoli capillari dilatati cute calda il soggetto percepisce sensazione di calore o bruciore come si può prevenire la rosacea per chi soffre di questo disturbo sono raccomandabili alcuni comportamenti detergere la pelle con prodotti delicati e non schiumogeni e non troppo di frequente evitare l'uso di cosmetici in crema ricordare di struccarsi completamente prima di andare a dormire per permettere alla pelle di respirare evitare le esposizioni al caldo al freddo improvvise diagnosi la diagnosi viene effettuata tramite esame da parte del dermatologo trattamenti non esistono trattamenti risolutivi si impiegano creme con azione stringente come la crema lenitiva durante l'estate si applicano foto riflettenti a base di argilla per tenere riparati i vasi sanguigni dai raggi del sole sono in sperimentazione dei vasocostrittori da applicare sulla pelle ma hanno effetti collaterali importanti i vasi più evidenti possono essere chiusi con lago elettrico il laser vascolare fonte informazioni rilevate dal sito humanitas punto it grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo alla prossima patologia esaminata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti